e quindi io mi sono andata a leggere quello che annunciano le sette trombe e la tromba che è stata suonata gli anni scorsi riguarda quello che sta accadendo in Medio Oriente quindi quella fase in cui il cerchio dei due squali dice attenzione è iniziata la lotta tra le due bestie con la guerra in Siria quindi stiamo entrando nell'ultima fase dell'Apocalisse poi cerchi nel grano mi dicono che sta finendo la settima coppa e con l'inizio della fase della guerra in Siria è la sesta tromba cioè inizia la fase che porterà alla battaglia di Armageddon lo so che è complicato e che è una mole di dati enorme che vi sto rovesciando addosso ma la conferenza rimane online quindi ve la potete riascoltare studiare perché sta accadendo attenzione amici io non sto facendo teologia o parlando di cose belle da ascoltare vi sto descrivendo che cosa sta succedendo nel mondo e a che cosa stiamo andando incontro quindi sto cercando di aiutare voi fratelli miei a vincere questa battaglia e uscirne indegni e ad essere felici quando Gesù dirà venite entrate nel regno perché se non ce lo dice è un problema eh grossi guai che Gesù lo vedremo così come oggi vedete me che sono un suo piccolo per volontà sua io sto facendo questo in realtà è lui che me l'ha chiesto poi gli extraterrestri hanno apparecchiato tutta stammenata della mia vita ma di fatto il mandante occulto si chiama Gesù Cristo e me lo disse in tempi non sospetti quando non ci ho capito una mazza il sesto angelo apocalisse 9 il sesto angelo suonò la tromba allora udì una voce ai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a dio e diceva il sesto angelo che aveva la tromba sciogli quattro angeli incatenati sul gran fiume Ufrate quindi siamo in medio oriente furono sciolti i quattro angeli pronti per l'ora il giorno il mese e l'anno per sterminare un terzo dell'umanità ho detto interessante andiamo a vedere chi sono i quattro angeli incatenati al gran fiume Ufrate guardate un po' chi sono i quattro angeli queste le Ufrate i quattro angeli sono l'Iraq la Siria la Turchia e l'Iran sono i quattro angeli incatenati al gran fiume Ufrate quindi inizia lo scontro inizia lo scontro Iran Iraq Siria e Turchia è la zona del pianeta dove abbiamo tra le più gravi tensioni internazionali dove si stanno fronteggiando per ora indirettamente le due bestie Russia Europa Stati Uniti Cina e Iran perché Iran Hezbollah Russi hanno combattuto l'Isis degli americani e europei dell'Arabia Saudita e ottimo stipendio a tutti quei mercenari vestiti di nero perché si coprivano la faccia perché se no avremmo visto inglesi avremmo visto italiani avremmo visti olandesi avremmo visto arabi avremmo visto siriani c'era di tutto sono mercenari un esercito mercenario a pagamento ma è tutto c'è tutto nella nelle informazioni è solo che se voi state davanti ai giornalisti dei tg di canale 5 la Rai quelli vi raccontano balle quelle sono una mandria di prostitute vendute la loro lingua è prezzolata per ingannarci apocalisse 16 il sesto angelo verso la sua coppa sopra il gran fiume offrate e le sue acque furono prosciugate quindi sesto angelo tromba parla delle offrate i quattro angeli sono quelle quattro nazioni tra cui l'iran che ancora non era stata toccata quando io feci quell'articolo ancora non era stato toccato l'iran mancava l'ultimo angelo adesso è stato sciolto anche lui quindi la sesta tromba rimanda al sesto angelo perché prima gli angeli suonano le trombe e poi versano le coppe quindi la tromba dice attenzione sta per succedere i quattro angeli vengono slegati tra poco entreranno in azione la sesta coppa che è legata alla sesta tromba parla di nuovo della medio oriente il sesto angelo verso la sua coppa sopra il gran fiume offrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'oriente oriente iran russia e cina oriente poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vedi uscire tre spiriti immondi simili a rane sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re della terra per la grande guerra del gran giorno di dio onnipotente ecco io vengo come un ladro beato chi è vigilante conserva le sue vesti per non per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne e radunarono il re nel luogo che in ebraico si chiama armageddon dov'è questo luogo dove poteva essere armageddon dove iniziata l'epotea di nostro signore questa battaglia che nel tempo è diventata sinonimo della stessa apocalisse la battaglia di armageddon avverrà nella località che si trova in territorio israeliano ed è denominata megiddo armegiddo armageddon cioè monte di megiddo lo scenario geografico rimane perciò il medio oriente israele in particolare il luogo dove l'epopea cristica ha avuto origine avrà fine con la grande battaglia di armageddon non è vedete una volta che si conoscono non è difficile spiegare l'apocalisse ma abbiamo dovuto aspettare la rivelazione